Buongiorno carissimi, bentornati sempre qui sul canale, bentornati sempre qui dal cap. Oggi, 5 minuti fa, proprio esattamente 5 minuti fa, ero su Sdome a vedere se c'era qualche mazzo interessante da provare. Perché provare il discard con il nerf di Apocalypse è sempre forte, è sempre quello. Provare il Thanos con il nerf alla mind è sempre forte, cioè sono sempre forti i mazzi. Non ci vuole un ben altro per nerf fare dei mazzi belli, compatti come quelli. Però, si sta prendendo una piega che mi sta piacendo, sai? E invece oggi torniamo, ovviamente come ogni season, al mazzo che ha fatto la storia di Marvel's Snap, se vogliamo. E STRAI! Con la Lyot e non con Zola. Perché con la Lyot? Perché, secondo me, attualmente la Lyot ci sta di più di Zola. E poi anche perché mi sono rotto il cazzo di giocare sempre Zola. Cioè, proviamo la Lyot, anche perché con una singola carta, anche se il mazzo è sempre fondamentalmente quello, il destra è più forte, ok? Ti cambia tutto il concetto di giocata, il concetto di arrivare fino al sesto turno. Cioè, perché tu con la Lyot cosa vuoi? Vuoi andare a prendere l'aprio al quinto turno, ok? Invece con Zola tu punti a sdoppiare le robe al turno 6, no? E prima di andare a degustare il mazzo e tutto ciò che ne consegue, se arriviamo a 2.000 iscritti qui su YouTube e a 50 sub, e dico 50 sub, sul sito Purple, io esco il cazzo. Quindi stavamo dicendo, andiamo a provare subito il destroy, attiviamo tutto ciò che ne consegue e andiamo a vedere che cosa ci delizia oggi. Allora, Snap! Olè! Subito avatar di Cosmo Pixel. Bello, interessante. Nuova Roma, bello. X23 subito come prima mano? Mi gusta sta roba. Via. Ora, adesso il primo game sarà sicuramente un bell'armor. No, 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 c'è il cavaliere. Fermo, 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 fermo. Allora, può essere tutto il cavaliere, può essere Ela, può essere anche un Ghost Rider, qualsiasi, può essere anche un discard puro. Va bene, I going to Deadpool. Io Snap per H, abbiamo l'aprio? Cazzo. Allora, Snap! Subito, subito così, subito così. Ok. Non è successo niente, voi non avete visto niente. Cose. Sono successe cose subito alla prima cosa. Però, potevi giocarla secondo me, potevi giocarla anche perché, insomma, il cavaliere di primo turno è bello. Oh, ehi, calmi. Siamo calmi. Allora, facciamo così, guarda, facciamo. Nikominoru. Torciumana mi delizi. Mamma, proprio, stiamo volando. Adesso, siccome Killmonger... Killmonger. E che il monger poteva essere molto buono. Ok, gli ho tolto la cosa. La scomasta. Vabbè. Sti, cazzi. E... Facciamo Deadpool into X23? Tanto io che me ne voglio di... Oddio, potrei fare, invece, X23. X23 qui, into Deadpool. Ok. Perché così facendo? Tu in qualche modo... Ok, si ferma lì. Va bene. Tu peschi. Ok. C'è anche Wolverine. Eh, vedi, quel Killmonger... Cioè, mi... Boh, so copia. Albax. Ok. Oi. Calmo, eh. Siamo calmi. Nikominoru. Wolverine. E Carnage. Però mi è rimasto qui quel Killmonger, frate. Mi è rimasto qui. Dove vai? No, frate, non lì. Ma non lì. Assolutissimamente non lì. Allora, sai che facciamo? Facciamo una roba, guarda. Facciamo. Eh. Facciamo questo? Poi ci abbiamo detto a zero. Possiamo mangiare death con Venom. Volendo, eh. Che gioca lui lì? La Fenice. È pazzo giocare. Ok, multiple man. E diventa Morbius. Guarda. Hulkbuster. Ok. Va bene. Allora, possiamo fare una roba. Possiamo fare... No, non posso fare Hulkbuster in... Ok, no. Non ha senso. Non ha effettivamente senso sta roba. Ora, così. Così. È così. Oppure a sto punto... Guarda. Oppure a sto punto possiamo fare un'altra roba. No, non ci arrivo. Ma che sta a fare? No, ma che sta a fare? È così, guarda. È così. È così. Anche perché Carnage sarebbe molto comodo lasciarlo lì attualmente. Perché è un 8. Perché? Perché continua a giocare su Tarnax il bro? Ciclova e pareggia. Alliot. Alliot... Alliot, insomma, frate. Allora, ho briccato la Fenice, ragazzo. Vai. Il ragazzo ha briccato la Fenice e... Insomma. Perché non fa sta roba? Eh, ma non ha senso. Ma io farei alliot qui. Io non lo so perché mi sento di fare sta roba. Perfetto. Quindi come in oro. Ma era un bot? Ma non era un bot. Ma non era un bot. Ma mi ha regalato il game. Non so che pensare. Non so che pensare. Un match un po' così. Un po' goliardico. Eh... Ok. Allora. Niko. Vabbè. Sti cazzi. Facciamo Wolverine. Subito turno 2. Killmonger, se me lo lascio adesso... Thanos. Thanos contro. Questo è un bel game. Vediamo. Che può dare il pene in bocca. Uh... Wey. Stiamo calmi. Stiamo calmi Wolverine. Lui se lo muerde... Ce l'avrà... Armor? Mmh. Vabbè. Ok. Ci sta. Il terre selvaggio è ok. Il terre selvaggio va benissimo. X-23 in Hulkbuster. Ma sai che io quasi lo farei sta roba. Summer. Ok. Adesso belli. Lì. Puliti. E si buffano. Ok. Chi ci ha privo in tutto ciò? Mmh. Mmh. E qui godo. Qui si godo un attimo. Aspetta, aspetta, aspetta. Fammi... Fammi un attimo snappare. Cioè, ma... Ma senti. Perché in questo modo noi copiamo Venom, frate. Cioè, Nico è fortissimo a questo effetto. Che culo, tra l'altro. Perché non ne esce mai. Ma non ne esce proprio mai. Modus. Sì. Sì, 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 sì. Guarda che se mi tornano tutte e due lì, sull'isela Muir... Vabbè, anche lì. Vabbè, anche lì. Tu? Tu ritorni lì. Perfetto. Perfetto. Ti dipendi, Venom. Hola. Tu che fai? Tu come... Come la gestisci la situazione? Bello Carnage qui, però. Molto bello Carnage lì. Fai così, frate. Fai così e poi... Poi valuti. Anche Killmonger sarebbe ottimo, eh. Anche Killmonger sarebbe ottimo qui. Così che prendo X-23 e vado a... Sette punti. Di mana. Ce l'avrà il prof? Lui? Vabbè, speriamo. Cioè, nel senso... Ok. Sarà il prof. Sarà il prof. Dai, vabbè a sinistra intanto. Ok, perfetto. Grazie. Grazie, grazie, grazie. Grazie mille. Via. Distruggili. Vabbè, vabbè. Non fa niente. Non fa niente. Provi X? Magneto. Allora, che succede? Succede che Detto rimane... Eh, vedi. Detto rimane qui. Il problema è che io... Così vado a 20. Ma... Non basta. Non basta sta roba. Roba non basta. Sta roba non basta. Però ci devo provare ugualmente a contestarli. Perché secondo me sposterà... Sposterà già. No, sto cazzo. Non basta, vabbè. Non basta mai. Quell'isola Muir. Perché lui ci lasciando, ovviamente. Niente. È solo. Ma guarda tu quel Mobius quanto gli è stato utile in tutto ciò. Guarda quel Mobius. Io non so dove sono andato a finire nel mio mazzo i vari crueule a Lyot. Eh, non lo so dove sono andato a finire. Vabbè, sti cazzi. Ci abbiamo provato ugualmente contro il Thanos. Ci abbiamo provato ugualmente. Ma quella è la cosa brutta del Thanos. Che è un mazzo compatto. È un mazzo che ti permette di gestire qualsiasi situazione. E questo è il punto. Credo. Ok, Nico. Fammi subito l'effetto. Il più due è la se stessa. Sì. Ok. Ok. Lui snappa, tra l'altro. Perché snappa? Ma che campi di merda, guarda. Cioè, veramente. Fammi vedere. Ok, Killmonger. Ok, Venom. Suspot. Perfetto. Non mi dì che mi mette armor, frate. Mi distrugge. Mi disintegra. Ecco, l'armor è chiusa. Cioè, lui ha vinto con armor. Lui ha vinto con armor, eh. Ok. Distruggi di quel Suspot maledetto. Perfetto. Mi piace questa roba. Via. Mo. Mo, Deadlock sarebbe una bella play. Deadlock sarebbe una bella play. Attualmente. Distruggi due, potrino cinque, vuoi fare death into Venom. Ok. Ok. C'è l'ho. Guarda. Io farei una roba. Vediamo. Facciamo Knull. Ok. E' abominio. Perfetto. Ah, dai. Non ho capito perché lo snap, frate. Nel senso... Ha un po' azzardato. Soprattutto per un alto evo... Una location non risolve nulla. Posso andare avanti? Ok, grazie. Complimenti, my bro. Bellissimo play. Bellissimo snap. Bellissimo tutto. Player particolare. E... Washington... Non mi interessa, però Wolverine. Che fai? Non lo giochi. Subito. Poi... Mi dai una... Una bella cartina 1, magari? Il Monger, dici? Insomma. Il Monger è un po' di disastro. Beh, Hulkbuster. Ma perché? Guarda, è un cazzo di Wolverine ti ho settato. Mica ti ho detto vaffanculo. Vediamo se possiamo concludere questo video oggi. Oppure lo concluderemo sicuramente per Pasqua dell'84. Che è già passata. Da un po'. Da un botto, va bene. Da un botto. E c'è che tu mi presenti con quest'avatar bellissimo di Gimpin? X23. X23. Subito. E poi... Isola Moira. Guarda, potrebbe essere anche bella Isola Moira. Hulkbuster è buono. Vediamo. Io devo temere per forza un armor di turno 2 oppure un cosmo. Cosmo è da una vita che non lo vedo all'interno di snap. Armor? Eh. Armor è. Ma che so sti dubbi ogni volta dei player al turno 2, turno 1. Le partite di snap sono belle perché durano un cazzo. Capito? Tu puoi stare benissimo seduto al cesso a farti una partita di snap. All'infinito. Hai capito? Eh, ok. Vedi. Mi ha fatto passare tutto il tempo per poi? Passare. Capito? Strammi, strami, strami, strami. Il turno spaziale. Vedi che non è bella sta roba. Mmm. Vabbè, oh. Senti. Any coin to carnage. Sperando che l'X23 non mi ha il turno spaziale. Nel senso. No, su di San Moira lo accetto. Lui sa lo urla, certo. Godo. Perché non l'ha separato sul turno spaziale, il pazzo? Ci non lo sai. Mmm. Complimenti su questa bella play. Eh, questa è una bella play. Questa è decisamente una bella play. Io non vorrei giocare nulla. Io vorrei settarli così si prendono un bel più... Capito? Dici nuova. Dici elettro. Ok. Quindi lui andrà a distruggere. In teoria. Lui andrà a distruggere. Bella. E io devo distruggere. Ok. Perché io devo distruggere. Poi turno 6. Puoi fare benissimo Knulla in tu Venom... In tu Deadpool. Sorry. Palesissimo che è questa cosa. Ok. Nessuno sul litro muirà. Perfetto. Grazie. Grazie mille. Nimrod. Mmm. Nimrod. Ok. Perdonami. Nel senso... Io devo fare per forza così la roba del genere. Adesso. Eh ma gli distruggo nuova. Vero. Vero gli distruggo nuova. Oh. Poi... C'è da far qualcosa. C'è da far qualcosa. Destroyer? Non mi andarli uno sul plano spaziale. Ok. Perfetto. Perfetto così. Ok. Ok Venom. Ok. 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 Mi sta bene questa roba. Mi sta molto bene questa roba. E... Adesso. Scusami. Facciamolo andare via bro dai. Facciamolo andare via. Basta. Facciamolo andare via bro dai. Facciamolo andare via. Perché ha convinto abbastanza questo mazzo soddisfatto. Come sempre il grande. Il buon. Il grandissimo. L'irreprezibile destroy. E a Light serve dai. A Light è quella giocata in più. Perché tu con x23 tu puoi accumulare punti. La location ha aiutato. Non si sa come mai. Cioè anche quella worship lì per un destroy. Può essere. Dico un vantaggio. Ma nel senso. Un svantaggio non è. Perché. Cioè. Ugualmente noi andiamo a distruggere sempre di continuo. E non ci lunghiamo mai. Capito? Trovate il mazzo ragazzone. Vi auguro una. Tontuosa. Domenica. A domani. A domani.